Passerei la parola al dottor Yader Fabri, che è biologo, nutrizionista e dietista. Yader, perché dobbiamo consigliare, diciamo, a chi pratica sport di andare da un nutrizionista? Quindi dobbiamo sfatare un po' il falso mito di andare dal nutrizionista, cioè che solo chi deve dimagrire deve andare dal nutrizionista? Intanto buonasera a tutti. I clienti di un nutrizionista possono essere sia gli atleti amatoriali, professionali, sportivi, professionisti, ma dall'altra parte anche persone comuni, quindi dalla signora Maria, che può avere anche una necessità eventualmente di dimagrire, ma ci sono anche persone comuni che vogliono imparare a nutrirsi in maniera corretta e adeguata. Quindi in realtà l'alimentazione forse è il primo passo, io ovviamente tiro l'acqua al mio mulino, ma è il primo passo per cercare di prendersi cura di se stessi. Ecco, quindi invece lo sportivo che richiede la sua consulenza a livello di nutrizione? Beh, allora in questo caso rispetto agli studi scientifici in medicina dello sport posso dire che per esperienza personale, in realtà l'atleta amatoriale, l'atleta master oggi che pratica ciclismo a livello agonistico, di medio livello, non ha bisogno neanche di arrivare al medio alto livello, in realtà è una persona che si occupa della propria alimentazione e ci tiene perché comunque anche solo nella sfida domenicale con il vicino di casa o con l'amico è interessato a cercare di batterlo, quindi probabilmente si occupa anche di quello che è la preparazione atletica, ma sicuramente l'alimentazione è una di quelle cose che inizia a mettere in atto. Quindi l'atleta amatoriale a volte cura in maniera diciamo adeguata e precisa l'alimentazione, a mio modo di vedere per la mia esperienza con molti atleti professionisti che ho seguito e anche la nazionale di ciclismo, vi posso dire che ci sono alcuni atleti professionisti che seguono l'alimentazione ma non la seguono così tanto quanto i loro risultati in ambito agonistico. Ok, allora dovete sapere che forse tanti di voi sapranno già che Iader Fabri ha scritto un libro davvero molto interessante che consiglio a tutti che si chiama Indice di equilibrio e all'interno di questo libro c'è una frase molto emblematica, adesso cercheremo un po' di riassumere un po' la filosofia che è descritta in questo libro, però intanto se ci può spiegare brevemente questa frase, cosa, come e quando mangi è più importante di quanto mangi. Allora sì, questo è il claim del mio libro al di sotto del titolo, io sostengo ma non lo sostengo solo io, lì vediamo una locandina con Barry Sears che è stato il promotore di questo tipo di sistema più ormonale rispetto a un sistema quantitativo. Diciamo che l'approccio nutrizionale solitamente che molti miei colleghi adoperano è una persona si presenta da lui e in relazione a se deve aumentare di peso, se deve diminuire di peso o deve rimanere normo peso, si fa un calcolo calorico e stimato questo poi si cerca di gestire in maniera matematica il quantitativo del cibo da consumare all'interno della propria giornata in relazione al proprio dispendio energetico, quindi all'attività fisica che una persona fa. Questo diciamo che è l'approccio che mi è stato insegnato nell'università che ho frequentato, ma è l'approccio classico che l'80% dei miei colleghi oggi fanno, spero forse anche ormai il 70% visto che il mio libro è stato comprato più da forse nutrizionisti che persone comuni, però questo diciamo è un approccio che portiamo avanti da molto tempo, oggi si sta iniziando a pensare sempre di più e siamo sempre di più quelli che pensiamo che l'alimentazione sia una scelta qualitativa del cibo in relazione all'approccio ormonale che poi è l'effetto ormonale che questo scatena all'interno del proprio piatto. Quindi in relazione a come noi mangiamo e come abbiniamo il nostro pasto sicuramente possiamo avere delle reazioni ormonali nel nostro corpo, quindi per me la cosa più importante è quella di mantenere la glicemia stabile attraverso l'uso del cibo, come lo si può fare in maniera abbastanza semplice? Quando utilizziamo dei carboidrati intanto bisognerebbe capire che tipo di carboidrati stiamo utilizzando e quando utilizziamo dei carboidrati ad alto indice glicemico come il pane, la pasta, le patate, la pizza, insomma quelli che ci piacciono, dobbiamo cercare di abbinarli sempre in una fonte proteica perché questa mitigherà la risposta della nostra glicemia, cioè della concentrazione di zucchero nel sangue. Se io andrò a abbinare anche una fonte proteica a questo pasto, quindi il contrario di quello che l'80% dei miei colleghi consigliano, un piattino di pasta a pranzo con un po' di verdure e basta, a mio modo di vedere il piatto di pasta deve essere accompagnato anche da un secondo proteico oppure un sugo molto proteico, quindi il contrario di quello che ci viene raccontato per via del fatto che se io fossi un nutrizionista classico che basa il tutto su un conteggio matematico, cercherei di sconsigliare alla persona che ho davanti in ambulatorio di mangiare il sugo o cose caloriche. Invece io mi baso su un concetto ormonale e quindi a me interessa che cosa avviene all'interno del proprio sangue perché penso che questo indipendentemente dalla performance possa portare anche a un effetto salutistico e di prevenzione visto che oggi una delle malattie di quali si parla ancora troppo poco perché poi impressiona poco una persona che ha il diabete di tipo 2 ma è una cosa assai frequente e molto più frequente di altre malattie che ci spaventano. Io seguo tante cose che lei pubblica su Instagram, tanti suoi video e insomma vedo che pone l'attenzione su alcuni alimenti, visto che ci troviamo qui nelle Marche ma siamo anche vicini alla Romagna ad esempio la piadina, meglio mangiarla vuota o farcita? Beh io qui ho un video sul mio canale YouTube che spiega questa cosa ed era proprio qui a Pesaro, quindi è una piadiniera di Pesaro, quindi perfetto, ero in ambulatorio da Mauri e un giorno mi sono mangiato due piadine. Vi posso dire che ho iniziato dalla piadina vuota e mi sono misurato la glicemia prima, poi dopo un'ora e dopo due ore e ho avuto un'impennata della glicemia, poi ho aspettato un'ora, un'ora e mezzo, mi sono rimisurato la glicemia e sono andato a mangiare la seconda piadina ma molto farcita. All'interno avevo messo, mi sembra, l'affettato, comunque anche cose grasse come la pancetta, il formaggio eccetera e dopodiché mi sono rimisurato la glicemia. Vi posso dire che però oltre all'effetto che comunque nel secondo caso farcita la glicemia è stata molto più stabile, nel primo caso oggettivamente nelle visite ambulatoriali, non so chi di voi mi è capitato sotto mano, ma ho fatto molta più fatica e avevo anche molto più sonno. Quindi in realtà non c'è bisogno, come spesso accade che molti sui digital, sui social mi scrivono, ma anche io mi sono comprato il glucometro e mi spunzecchio le dita, non c'è bisogno di farlo, basta ascoltare un attimo l'effetto fisiologico che noi abbiamo. Quando una persona inizia a avere sonno, sonnolenza, si sente stanco o non è performante, sicuramente probabilmente qualche cosa nel pasto antecedente l'ha sbagliato. Quindi anche facendo questi piccoli esperimenti del mio corpo prestato alla scienza, in realtà io stesso mi accorgo quanto cala anche la mia performance che solitamente ho durante le mie giornate. Quindi l'importanza assolutamente del cibo. Vedete lì in questo banner è annunciato un evento che assolutamente vi consigliamo di non perdere perché il 7 ottobre presso l'hotel Excelsior Maurizio Radi, quindi Fisio Radi, proprio con l'obiettivo di comunicare, di illuminare tra virgolette le menti, far conoscere e diffondere notizie importanti, ha deciso di organizzare un nuovo appuntamento che si chiama Positive Nutrition. Ma attenzione perché ci sarà il dottore Barry Sears che è l'idiatore della dieta zona e sarà insieme al dottore Iader Fabri. Maurizio, perché hai deciso di organizzare questo appuntamento? Sempre per il solito motivo, per cercare di portare qualcosa di nuovo, di particolare. C'è stata questa occasione di poter avere il dottor Sears per la prima volta a Pesaro, una figura importante perché non solo è l'idiatore della dieta zona ma è un grande illuminare in questo settore. E magari per dirci meglio chi è Dear Sears che magari lo conosce molto meglio di me, passo la parola a Iader Fabri. Barry Sears penso che sia conosciuto in tutto il mondo, intanto per iniziare è un caro amico ed è una buona persona ed è un grande scienziato. Oltre ad essere l'inventore della dieta zona, quindi colui che ha iniziato a parlare, non solo lui, però in quegli anni, stiamo parlando della fine degli anni 80, inizio 90, ha iniziato a parlare del cibo in termini ormonali non più quantitativi. Ma è anche uno in questo momento, uno degli scienziati più importanti al mondo per quello che riguarda l'infiammazione silente e l'infiammazione corporea in generale. L'infiammazione silente sembra un parolone, ma per spiegarla in soldoni è una cosa abbastanza semplice. Se noi parliamo di infiammazione, pensiamo magari a un urto, se io batto un ginocchio in uno spigolo nel letto, posso creare un'infiammazione in acuto che posso magari trattare con della fisioterapia o altro. Invece l'infiammazione silente è un'infiammazione che noi non percepiamo. È un'infiammazione che un po' tutti noi abbiamo, anzi tutti noi abbiamo anche ad alto livello e costantemente ogni giorno praticamente generiamo. Come la generiamo? La generiamo certamente con il nostro stile di vita, in realtà anche in relazione a quello che mangiamo, respiriamo e quindi alcune cose che non sono sempre sotto il nostro controllo. Quindi l'aria che respiriamo purtroppo non è sotto il nostro controllo, purtroppo probabilmente non è neanche l'acqua. I nutrienti insomma fanno anche quello che possono, ma soprattutto in relazione, torniamo al discorso che facevo prima, al bilanciamento del nostro piatto. A questo associamo uno stile di vita che può essere più o meno salutistico, ecco abbiamo generato quello che è l'infiammazione silente, che può essere dentro di noi magari in maniera più o meno importante. Ci sono anche delle analisi specifiche per poter misurare questo tipo di approccio e una delle prime cose da poter fare è cercare di gestire la propria alimentazione in maniera un po' diversa perché è una delle cause che generano e incentivano un'infiammazione silente, è l'aumento della glicemia, quindi dello zucchero nel sangue e l'aumento degli acidi grassi omega 6, che sono acidi grassi indispensabili, ma purtroppo oggi nella nostra alimentazione è troppo presente e mal bilanciati con gli acidi grassi omega 3. Tutto questo genera un'infiammazione silente che porta alla base di tutte le patologie che conosciamo. Qualsiasi patologia che noi conosciamo oggi, della quale parliamo, ha una base di infiammazione silente. Quindi vi invito perché non tanto magari per la mia presenza, perché ci sono anche altre occasioni per poter ascoltare me, ma sicuramente è un'occasione per ascoltare uno degli scienziati mondiali più importanti che oggi possono parlare di queste tematiche. Grazie. Grazie a tutti.